Sul lato sinistro vi è la raffigurazione di San Cristoforo, che trasporta il bambino. Il dipinto va a sormontare il registro inferiore. Sul lato destro della controfacciata è dipinto San Bernardino da Siena, frate francescano, celebre per il suo zelo e la sua capacità oratoria. È raffigurato eretto, il volto attento, lo sguardo penetrante. I suoi occhi sembravano seguire i nostri passi. Al centro vi è Sant'Antonio Abate, nell'ultimo riquadro si può ipotizzare la raffigurazione di San Sebastiano.